Non ho capito niente, non ho capito niente, ho giocato anche un po' al LoL di pomeriggio, però non lo so. Beh? Wait, what? Ah, aspetta. Ah sì, oggi ho giocato al LoL di pomeriggio. Eh beh, io ci sono stato un po' da la sera. Non lo so, è tutto nervioso oggi, non lo so. Dov'andare in bari. Eppure in community del solito. Oggi sono molto più in community del solito. Non ho capito niente, non ho capito niente. Ho proprio fatto un po' al LoL di pomeriggio, però non lo so. Dov'andare in bari. Io voglio asciuglierlo, non lo so. Wait, what? Ok, io voglio asciuglierlo. Ah sì, oggi ho giocato al LoL di pomeriggio. No. Oh I am, mostly, no. Mmm, toglia mi piace. La mia ultima conta come avevo giù. Ah vabbè dai! Io ho spiegato il flash e pensavo che ho flashato invece di un... ...quinto di me stesso vizio. Ehi, buongiorno Giorgio, ho fatto appena un'azione senza di te ed è andata abbastanza bene. 1-1! No, allora non posso farlo. Allora non è andato così tanto bene. Puttosto! Allora... Non ho specificato questo che ho andato a vedere. Cos'è? Capiste adesso. Non so, o te che hai fatto un'altra polizia? Non so, o te che hai fatto un'altra polizia? Non so, o te che hai fatto un'altra polizia? Noi! No flash! Però non lo so, oggi sto giocando meglio. Guarda il nuovo rischio di morecamore, anche dai. Allora prima ho giocato che... ... 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 Quello flash di me è troppo bellissimo, ma altrimenti non c'è E' vero che un paio che lo slid è nel cuore Tutta sempre Un cooldown 20 secondi, è ancora 90 secondi Quello Eh si, deve essere abbastanza veloce Rochi Ma non so, fai conto che Jenny ha trovato questa stage tipo a 60-60 sempre di hard E l'ha fatto con un Rochi che faceva bene E vuoi? Mi tiro fuori quella che fa il Revised Eh Nooo Calista? Anche Calista è forte, stai ritornando alla Season 5 lì Stai ritornando alla Season 5 Eh? Stai tornando alla Season 5 Stavo molto felice guarda Sto lagando Sto lagando tra le destra e la mia passiva io non sto perdendo hp quasi sono restati due secoli bloccati da fido stick ma c'è due secoli in mezzo la vita che prendo diventa hp no? e al di? come deve? eeeh non so che la fido 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 ma giorgio torgio ah è presente che hanno rimesso la vecchia infinita? si mi sono finalmente accorto che con ecarim mi scuppa il tappo infinito e c'è un 100% di pittrae sai cosa vuol dire 100% di pittrae con ecarim? guarda la tua fido può pittare no? dai può pittare davvero? si ma donno poi invece aggiungi anche la speed che prendi con la speed che non si la aiuti mi pare che la facevo 1500 di pittrae non so che cosa vuol dire iscriviti mi pare che lo fido 1500 di pittrae queste shield le facciamo al termine un pezzo non so che va bene Grazie a tutti. 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 Oh. Grazie a tutti. 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 Guarda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No. 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 No.